Matteo Messina De Naro ha le tre sorelle incontrate in carcere, non mi pento! Poi le colloquio con la figlia Lorenza, se vorrai il mio cognome all'anagrafe io non mi opporrò! Matteo Messina De Naro alcune settimane dopo l'arresto ha incontrato tre sorelle in carcere e ha confidato che lui non si pentirà. Dall'altra parte del vetro si sono sedute Rosalia che poi sarebbe stata arrestata, Bice e Giovanna. Lui Matteo ha parlato sotto voce e aiutandosi con il labiale ha scandito, non mi pento! Il boss non collaborerà con i magistrati, ha negato le sue colpe per delitti e stragi, è gravemente malato e non ha intenzione di tradire le persone che lo hanno favorito e protetto e che adesso sono ricercate. Diversamente dalle sorelle, l'unica figlia accertata di Matteo Messina De Naro, Lorenza Alagna, è il cognome della madre, 26 anni, non avrebbe mai voluto incontrare il padre. Lui Matteo ne ha sofferto e ha coltivato il rancore verso la figlia, come emerso dai pizzini che gli sono stati sequestrati e dove tra l'altro lui di lei ha scritto Degenerata nell'infimo, sciacqua la tuga, oppure spacciandosi come venditore ambulante con un'amica, la vigna, le racconta riferendosi così a una che definisce sua figlia. Io non lavoro più, è vero, però mi sono reso conto in questo periodo che l'imbelle, o l'ebete, alias mia figlia, non ne capisce niente di mercato di vendite, non ne capisce proprio un ca. Forse capisce solo il ca e questo è il punto e quindi devo essere io che la sto coadiuvando per cercare di insegnarle cosa fare, perché questo è lo scotto che si paga al fatto che non sono mai state con me sul lavoro, quindi io ufficialmente non lavoro più, non vado più in nessuna fiera, però ancora oggi la devo consigliare perché la vedo che non è in grado, non sa sfruttare le situazioni, io sono uno che se posso guadagnare 10 guadagno 10, lei invece se può guadagnare 10 guadagna 2. Dopo la cattura del padre, la figlia lo ha incontrato per la prima volta in carcere, all'Aquila, il giorno del compleanno di lui, lo scorso 26 aprile, e lui Matteo l'avrebbe trattata con freddezza, rimproverandola di non averlo mai ringraziato per i regali. Lei lo ha informato di avere riallacciato i rapporti con le zie e prima di salutarsi Matteo così si sarebbe rivolta alla figlia. Se vorrà il cognome di Messina Denaro all'anagrafe, io non mi opporrò. Nel frattempo non è stato ancora designato il detenuto al 41 bis che sarà in compagnia del boss durante l'ora quotidiana di socialità, come secondo prassi e come è stato ad esempio per Totò Riina nel carcere di Opera. Attualmente il capo mafia è in solitudine e l'ora d'aria la trascorre camminando in un cortiletto di tre metri per tre. Ha mantenuto la passione per i libri, legge, e si impegna anche nella ginnastica, in una delle due stanzette dove alloggia, utilizza una panca e alcuni attrezzi sportivi. Televisione, a Messina Denaro non gli interessa tanto. Il regolamento consente un numero di canali limitato, tutti della RAI, poi Canale 5, Rete 4, Italia 1, La 7, Cielo, Iris e TV 2000, sintonizzati e abilitati da un tecnico di fiducia della direzione del carcere. Impossibile accedere alle reti locali. Gli è permesso di consultare i quotidiani nazionali fino a un massimo di 5 al giorno. Non può cucinarsi il cibo, ma solo riscaldare il bitto del convento. È sottoposto alla chemioterapia. Ad assisterlo sono un'infermiera, un oncologo e un anestesista. L'elenco di ciò che ha messo in eccella è tassativo. Forbicine rigorosamente con punte rotonde, taglia unghie senza limetta, pinzetta e rasoio in plastica, vietati gli spray e le calzature in cui sono nascondibili oggetti.